Ciao a tutti, oggi vediamo come visualizzare in modo efficace i vari post che vengono postati sulla pagina. Ci interessa sia per la nostra pagina, VigoNovo.com, sia per qualsiasi altra pagina a cui siamo particolarmente interessati e di quali non vogliamo perdere alcun post. Cerchiamo una pagina tipo Barbie, quindi la pagina di Barbie, eccola qui, la cerchiamo tra le pagine, quindi pagina, ed ecco la nostra pagina di interesse. In questo caso abbiamo già davanti il pulsante bello e grande con scritto segui. Se premiamo questo pulsante, da questo momento in poi inizieremo a vedere più spesso dei post riguardanti la pagina di Barbie. Se però non vogliamo perdere alcun post della pagina di Barbie, dobbiamo ripremere il pulsante segui già, tenerlo premuto e cliccare su mostra per primi. Quindi l'opzione predefinita è quella centrale, mostra per primi è l'opzione che ci permette di essere continuamente aggiornati sulla pagina di Barbie. Altro caso, facciamo un'altra prova, facciamo con la pagina di Nike. La pagina di Nike, come vedete il pulsante blu non è più segui, ma invia messaggio. Questo è un caso diverso, è una scelta di che ho costruito la pagina di inserire invia messaggio anziché di segui. Clicchiamo sui puntini, clicchiamo su segui, già, anche in questo caso io avevo già impostato come opzione di seguire, ma ero come predefinito. Anche in questo caso, se voglio avere tutti i post di questa pagina, clicco su mostra per primi. In questo caso vedete che io ho già raggiunto le 30 pagine per le quali posso cliccare su questa opzione. Questo è il motivo per cui io non posso seguire tutte le pagine dell'associazione, degli associati, ok? Ed è questo il motivo per cui vi chiedo di fare la menzione, perché io non ho la possibilità di seguire costantemente tutte le pagine dei soci, ok? Quindi che cosa vi chiedo? Vi chiedo di entrare sulla pagina dell'associazione, di cercare l'impostazione segui e di cliccare su mostra per primi. Facendo in questo modo, riceverete ogni volta che accedete a Facebook, i post dell'associazione. Vi chiedo questo perché spesso vengono postate dei post riferiti alle vostre attività e non vedo né i like né le condivisioni dei titolari dell'attività. Stiamo perdendo delle opportunità di visibilità. Molto dipende da noi. Se vogliamo farci vedere, dobbiamo anche dedicare un minuto a Facebook. Grazie a tutti e buona giornata.